Amici del software libro open source, benvenuti o bentornati in questa settantesima puntata del podcast di Marcos Box, questa settimana registrato direttamente da Mordor. Madonna mia che caldo, non avete idea che caldo che ha fatto questa settimana qui? Cioè, non ve lo dico, è inutile che ve lo dico. Non lo avete. Apriamo questa puntata parlando di distribuzioni GNU Plus Linux, come ama ripetere il nostro caro Richard Stolman, con due notizie, una bella e l'altra brutta. Iniziamo da quella bella. Martin Winpress, l'attuale Director of Engineering di Ubuntu Desktop, ha creato uno script chiamato Rolling Rhino in grado di trasformare una immagine di una qualsiasi edizione giornaliera di Ubuntu e dei suoi frameworks ufficiali in una distribuzione di tipo Rolling Release, prelevando i pacchetti direttamente dal canale Devil. Lo script che trovate sul GitHub è rivolto principalmente agli sviluppatori di Ubuntu e agli utenti esperti, in grado di poter mettere mano alla distro per risolvere eventuali regressioni o bug potenzialmente distruttivi per il sistema. Quindi, don't try this at home se non avete abbastanza esperienza. Magari mettetela su un macchina virtuale. La notizia cattiva riguarda Manjaro. Il tema di sviluppo della distro ha sancito la definitiva morte del progetto Manjaro 32, che era volto a mantenere in vita il supporto a 32-bit. Il motivo? La mancanza di tempo da dedicare al progetto e un guasto hardware che, a quanto pare, ha accoppato quello che sembrava essere l'unico computer con processore basato su architettura 32-bit sul quale veniva attestata la distro. Se avete la necessità di installare una distribuzione a 32-bit, sul form di Manjaro è stata creata una lista con la distro che è ancora supporta di 32-bit. A questo punto, installate Debian e non ve ne pentirete. Restando il tema di distribuzioni GNU Plus Linux, arriviamo a una notizia interessante che riguarda l'arrivo di OpenSUSE 15.2 LIP. Questa nuova versione fornisce aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug, miglioramenti della gestione della rete e l'arrivo di una serie di interessanti pacchetti dedicati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e al machine learning. Per una panoramica completa di tutte e quante le novità, vi invito a leggere il comunicato stampa ufficiale che trovate su Marcosbox. Dal mondo Google arriva poi una interessante novità che farà felice molti di voi all'ascolto. A breve, Chrome OS supporterà i giochi Steam grazie a Borealis, un nuovo progetto sviluppato da Google che offre il supporto Linux mediante una macchina virtuale basata su Ubuntu. Direte voi, ma non c'era già Crostini basato su Debian che faceva questo? Beh, sì, avete ragione. Google a quanto pare sta lavorando su questo progetto parallelamente a Crostini e non è ancora chiaro se Crostini verrà sostituito in tutto da Borealis o se i due progetti continueranno a convivere, cosa molto improbabile a parer mio. Quel che è certo è che Borealis è basato su Ubuntu 18.04 LTS e al suo interno include una copia preinstallata di Steam. Stando ai colleghi di 9to5Google che hanno scoperto la parte del codice incriminata l'arrivo di Borealis dovrebbe coincidere con il rilascio dei nuovi Chromebook basati sul processore Intel di decima generazione. La notizia è interessante se vista in un'ottica più grande perché come ben saprete qualche settimana fa vi avevo parlato della collaborazione di Google con Parallels per portare le applicazioni Microsoft Office e altre applicazioni Windows su Chrome OS. Bene, Chrome OS diventerà così una piattaforma più che un sistema operativo in grado di far funzionare applicazioni native per Chrome OS, applicazioni per Android, applicazioni per Linux, applicazioni Microsoft e in grado anche di far girare i giochi della piattaforma Steam direttamente su questi computer. Diciamo che così Google si va un po' a fare anche la guerra in casa visto che offre un sistema di gaming online che Stadia, che a quanto pare non è decollato stando alle ultime analisi e agli ultimi riscontri degli esperti del settore del gaming. Infine parliamo di Mozilla, dell'arrivo di Firefox 78. Il rilascio di questa nuova edizione per il canale stabile coincide con la nuova e meglio release di Firefox ESR, la versione di Firefox con supporto esteso dedicata al mondo aziendale. Le due edizioni dunque si allineano. In questa nuova edizione troviamo un rinnovamento della dashboard dedicata alle funzionalità di protezione offerte da Firefox durante la navigazione web, quindi a protezione con tracciamento e quant'altro. Miglioramenti per quanto riguarda le chiamate audio e video web RTC, il deprecamento di protocolli di sicurezza obsoleti come TLS 1.0 e 1.1, oltre che una serie di miglioramenti nel supporto agli screen reader. Direte voi, ma non erano già stati soppiantati, non erano stati rimossi queste funzionali del supporto ai protocolli TLS 1.0 e 1.1? Sì, avete ragione, erano stati deprecati qualche release fa, però di mezzo c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia, e Mozilla aveva deciso di ritornare sui suoi passi e di riattivare il supporto a questi protocolli di sicurezza deprecati per impedire di creare problemi nell'accesso di siti governativi, che come ben sapete sono sempre quelli che non aggiornano subito alle nuove tecnologie. In Italia abbiamo anche provider abbastanza grossi, come Alice, che continuano ad offrire il supporto TLS 1.0 per la propria casella di posta, quindi capirete bene che in Italia stiamo messi anche peggio. Infine, l'auto mobile, Mozilla ha finalmente avviato il processo di semplificazione delle edizioni di Firefox presenti sul Play Store di Google. Sapete bene che con l'arrivo di Firefox Preview, la nuova versione che sostitueva l'attuale release stabile di Firefox per Android, erano apparse altre edizioni di Firefox basate sul ramo Preview sul Google Play Store. Bene, adesso Mozilla ha deciso di fare un po' di merge di codice qua e là, includendo il codice di Firefox Preview all'interno di Firefox Nitri e Firefox Beta. Sul Google Play Store adesso troveremo tre edizioni di Firefox, la Nitri basata sul codice di Firefox Preview, con build giornaliera, la versione beta di Firefox basata su Firefox per Android Preview, una versione stabile, diciamo così, quindi con build meno frequenti, però offre già il supporto alle estensioni iniziali, ed infine la versione stabile basata sul canale Release, che offre la vecchia versione di Firefox per Android, quella con la vecchia grafica, con il supporto a tutte le estensioni e quant'altro. Bene, hanno messo un po' a ordine. Speriamo che si diano anche una mossa nello sviluppo di Firefox, della nuova versione di Firefox, e che il codice possa arrivare quanto prima nel canale stabile. Speriamo che aggiungano il supporto a tante altre estensioni che sono attualmente rimaste fuori. Bene, con questo ho concluso. Longa vita e prosperità, e ci riascoltiamo in un prossimo episodio del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!